Dopo un lungo ITER burocratico durato diversi anni, finalmente sono stati consegnati i lavori per l'abbattimento di quattro edifici ATER nella frazione di Colle Atterrato a Teramo. Una giornata definita storica dalla presidente dell'ATER Maria Ceci perché segna il momento cardine di un percorso amministrativo e tecnico che ha impegnato l'azienda per anni che in questo lasso di tempo ha dovuto costruire letteralmente un ITER che per le sue peculiarità e la sua complessità non aveva precedenti. In totale sono 48 gli appartamenti presenti nelle parazzine di Via Giovanni XXIII che saranno demoliti e poi ricostruiti. L'Opera Teramo rappresenta un altro passo in avanti nel sistema della ricostruzione, nella complessa attività della ricostruzione. Oggi consegniamo i lavori per la demolizione ma nel frattempo ATER Teramo ha portato avanti anche i progetti esecutivi per la costruzione di nuove palazzine, delle quattro nuove palazzine. Ci sono già i progetti, ci teniamo a rassicurare quanti vivevano in queste palazzine. Io capisco il loro stato d'animo, mi immedesimo appunto in loro e nei tanti ricordi che avevano proprio in questi luoghi e in queste palazzine. Ma sicuramente non li deluderemo perché le ricostruzioni che andremo a fare, che appunto che prevediamo di andare a ricostruire sicuramente saranno palazzine al passo con i tempi. Un lungo lavoro supportato passo dopo passo dall'ufficio speciale per la ricostruzione e che permetterà la creazione di un nuovo complesso residenziale con case sicure sotto ogni punto di vista. Siamo di fronte a un fatto concreto perché l'avvio di questa procedura è un segnale che va dato soprattutto alle centinaia di abitanti terramani che insomma hanno un pochino sofferto per queste fatiche che l'Ater ha incontrato nella ricostruzione. Ora finalmente andiamo avanti con un passo spedito. La progettazione esecutiva dovrà essere curata con la massima speditezza perché finita la demolizione è necessario e giusto che venga iniziata poi la ricostruzione. Questo è il messaggio, dare il senso di un'attenzione di una squadra. Prima parlavo sia con il presidente dell'Ater che con il sindaco di Teramo ma anche con Pietro Quarisimale perché dobbiamo evitare che disallineamenti amministrativi fra gli uffici possano produrre ulteriore ritardo. Io sono qui proprio per dire che il commissario vuole assolutamente dare la giusta tempestività.